Il governo è al fianco degli imprenditori agricoli contro i tagli al comparto decisi dalla Commissione europea. Questa è la risposta del sottosegretario Castiglione all'interpellanza del Movimento 5 Stelle oggi alla Camera. Renato De Manuele. La proposta di taglio del bilancio della politica agricola comunitaria per mezzo miliardo di euro sollecitato dalla Commissione europea per far fronte ad altre urgenze come la gestione dei flussi migratori e il programma energetico è inaccettabile. La posizione del governo è netta e il tema, assicuro al sottosegretario Castiglione, verrà discusso nel prossimo Consiglio europeo, il 10 novembre. In un momento di crisi aggravata dall'embargo russo non sono sostenibili ulteriori tagli, dice. L'Italia è in campo per difendere gli imprenditori, così come è stato sottolineato gli imprenditori agricoli, che in questo momento vedrebbero ulteriormente penalizzata la nostra agricoltura senza aver nessun tipo di responsabilità e in un periodo certamente non favorevole sul piano congiunturale. I 5 Stelle denunciano la crisi del comparto agricolo, che dicono dovrebbe essere un motivo di vanto per l'intera economia italiana. Sono note le ripercussioni negative che sta avendo l'embargo imposto dalla Federazione russa sull'importazione dell'Unione europea di prodotti agroalimentari. È noto oramai che la Commissione europea intende porre fine anche agli aiuti a titolo di indennizzo per i prodotti particolarmente colpiti. Il governo stima in circa 100 milioni di euro il danno subito dalle imprese agricole a causa del blocco delle esportazioni deciso dalla Russia, come conseguenza della crisi in Ucraina.